il norad è riuscito a scoprire qualcosa nel laptop di ramos si sposta ogni 12 ora ma sappiamo dove sarà nelle prossime 12 in un complesso industriale nel golfo occupato dai fed loro lo chiamano porto franco l'ha scoperto il norad che ora lo vuole vivo vi metteremo a disposizione qualcosa per cacciare e io gestirò le unità da uno spettro sarà una caccia epica caccia grossa sapete cosa fare pirates 5 0 qui allo 1 1 siamo due minuti roger 1 1 l'estrazione del mip alla massima priorità proteggiamo la squadra di filtrazione finché i nostri non saranno scesi confermato 5 0 puntamento sensori direzione 0 7 7 confermare autorizzazione ingaggio verifica in corso attendere 10 secondi dobbiamo essere sicuri prima di sparare ok ingaggio autorizzato 5 0 preferite 30 mm o missili tutto quello che avete 1 0 fuoco con i 30 ok gente comincia la festa cazzo i versagli non mancano fuoco intenso di mitragliate abbiamo fuoco nemico proveniente dall'edificio con le ciminiere ripeto edificio con le ciminiere ciminiere confermato 1 1 bersagli ingaggiati o soltanto rilevati 1 1 re ingaggio altri bersagli sui tetti 1 1 segnaliamo fuoco nemico dal tetto dell'edificio più a ovest quello tra le strade 1 0 sull'edificio ingaggiamo l'edificio perivoli nemici vicino alle ciminiere abbiamo perivoli nemici in campo vicino alle ciminiere individuati proseguire all'attacco 1 1 1 1 0 via lontano occorre spazio di manovra 1 0 30 mm in secco procedono fuoco nemico Sierra namica ancora in attività dietro le ciminiere della ciminiere Ottima tira. Riccata. Ottimo set. Vuoto. Se l'è lanciato. L'entrante. Ottimo set. Riccata. L'è lanciato. Assegno, assegno. Ottima tira. Fisile partito. Riccata. Fisile partito. Fisile partito. Fisile partito. Fisile partito. Fisile partito. Fisile partito. Ottima tira. Fisile lanciato. Fisile partito. Fisile partito. Fisile partito. Fisile partito. Missile lanciato Missile partito Belivoli dei mici, lato nord Mezzi aerei, nemici in arrivo da nord Tenersi a distanza e occhi sul radar Missile partito Ottimo certo Missile da rinforzare Missile partito Cazzo, ci hanno agganciati Assegno, assegno Megala, Megala Ottimo certo Megala Ottima mira Fuoco Contatto a ovest, ne arrivano altri tre Missile partito I velivoli nemici non ci volano, a batteri Megala Spazio aereo libero Autolo 2-1 via libera Mi copriamo le spalle C'è moto a 5-0 Avanziamo Versagli nemici multipli in posizionamento sotto di noi Procedere all'attacco del lato nord dell'edificio, lato nord Sotto di noi Fuoco sui bersagli in movimento, procedere Abbiamo ingaggiato versagli in movimenti multipli, numerosi superbi Ok, iniziamo sotto, andiamo indietro Presta Missile partito Grazie dell'aiuto Squadra Goss in campo Ripeto, squadra Goss a terra e in movimento Outro 2-1 Procedo come da sentire Ritemuto Continuare la ricerca di bersagli Granata Granata Viva E'milito Fagli A presto! Tenemos un momento! Granata! Tenemos un tipo saluto! Saluto! Tenemos que... Tenemos que atravesar una frente! No! 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 Horirai! Go! Gl Montana! Ventura... Versai! Den 2-2-3-3-4-4-6-4-6. Eliminato! Bersaglio a ore 12! Copritemi! Me taglio a ore 12! Ok, ce l'ho fatto io! E' a terra! Copritemi! Me taglio a ore 12! Ok, ce l'ho fatto! Cuantico! Que lo saqué?! No lo tengo despejado! Las lingerie a su terra ubicando! Exacto! ...ma qui li'ho! Un hombre linda! R.P.G. 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 R.P.G.